Praticamente cosa è successo? La settimana dopo la cresima ero all'oratore, quando si svolgono le elezioni e la catechista mi tirò i capelli un paio di volte perché stavo facendo un po' lo scemo con un compagno di banco. Cosa facevi Simone? Scemo in che senso? Non ricordo finissimo cosa faceva questo mio amico, so che mi sono alzato, ho messo nella mia bella tracchetta il catechismo e ho chiamato la catechista, ho buttato a terra e poi sono scappato, solo che non ho fatto tempo neanche di arrivare a casa che c'era già... Poi lui si chiama D'Aremiglia, salutiamo gli amici, salutiamo gli amici... Però scusa, adesso io non voglio difendere il caro Simone, ma Stavolo, pure lei, la catechista di le capelli? No, comunque perché non l'avevo fatto... Quindi la parola vi tolgo il problema, no? Io per quello che stavo facendo, perché magari, come sai, sta fischiando questo compagno... No, 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 avevo proprio i capelli lunghi, probabilmente, probabilmente mi scherzavo da quello... Ah, ok... E come ero già abbastanza grosso allora, si dava 400 kg, quindi... Quindi... Si è fatto valere, hai fatto bene, bravo, si è fatto bene... E viva le cattivazioni! E dopo la denuncia mi sono pure rindicato sul filo e ho menato, io giocavo a pallone con me, ho pure menato... Vabbè, non si muore, eh... Vabbè, non si muore, eh... Ragazzi, che state ascoltando, bambini... Azzone di tassi, Gimona! Ma ne chiedete che...